Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un nuovo video. Nel video di oggi andremo a vedere come poter piegare in casa dei tubi di piccolo diametro, quindi la metodologia corretta e che gli strumenti necessari e che cosa dobbiamo utilizzare senza andarli a schiacciare. Prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, di lasciare un bel like al video se vi è stato utile per supportare il canale e il video stesso e se ci sono delle domande potete scriverlo nei commenti che appena sarà possibile vi risponderò. Detto ciò iniziamo! Bene, allora come dicevo nell'entro del video, oggi ho dovuto piegare leggermente questo tubo di piccolo diametro che per chi seguirà i motori saprà perfettamente doveva montato, infatti questo è il classico tubo in cui all'interno ci passa il filo del gas per i carburatori dell'orto. Siccome le misure che produce dell'orto, che sono tre, non mi bastavano perché volevo far fare un giro diverso al mio cavo ho deciso di andarlo a piegare e quindi ve lo porto in questo momento, siccome l'ho già fatto con ottimi risultati ho deciso insomma di portarvi anche questa videopillola, tra virgolette. E' chiaro che si potrebbe fare anche direttamente adesso il tubino in casa, ora che ho capito come si fa e ho imparato a farli potrei tranquillamente prendermi un tubo di questo diametro, tagliarlo e andarlo a filettare esternamente da questa parte e internamente da questa parte e andarmelo a piegare come meglio voglio facendo una dell'altezza della minura che voglio. In ogni caso io ho già risolto, quindi adesso vediamo come si piegano i tubi. Allora, iniziamo intanto con dire che qui vedremo solamente come piegare dei tubi di piccolo diametro perché per tubi di diametro decisamente maggiore servono della sabbia all'interno oppure delle molle perché altrimenti si schiacciano comunque. Per quanto riguarda invece i tubi di piccolo diametro possiamo fare tutto tranquillamente in casa ci basterà chiaramente una morsa dove dovrete utilizzare per non andare a rovinare il tubo o del legno o meglio ancora delle placchette di alluminio come si fa al solito a metterne le morse per non andare una volta che andiamo a stringere a graffiare tutta la nostra superficie del nostro tubo e questo chiaramente servirà per tenere ma semplicemente per proteggere. La seconda cosa assolutamente indispensabile di cui abbiamo bisogno è un altro tubo di diametro maggiore leggermente di diametro maggiore, in questo caso questi sono da 6, io questo l'ho fatto da 6,5 quindi è veramente di poco e la cosa fondamentale che deve avere il nostro tubo di diametro maggiore è la seguente, nella parte interna, quindi nella parte in cui andrà a contatto per la piegatura d'accordo? deve essere smussato, se noi manteniamo ad esempio prendiamo una bussola che ha, hanno quasi tutte l'angolo abbastanza vivo quando andremo a schiacciare inevitabilmente, quindi a tirare in questo modo inevitabilmente questo punto qui che è nella parte bassa verrà lasciato il segno sul metallo e non sarà assolutamente bello, invece così facendo la curvatura viene assolutamente perfetta d'accordo? quindi è molto importante che la parte imbattuta contro il pezzo sia assolutamente smussata all'interno, io l'ho fatto anche esternamente ma quello che conta è all'interno questo ho deciso di farlo esternamente perché l'ho fatto al tornio di corsa e insomma già che c'ero l'ho smussato anche esternamente un'altra cosa che è assolutamente indispensabile sono questo tipo di bombolette per scaldare fate bene attenzione che non si può utilizzare la pistola ad aria calda che si utilizza per la chiusura dei motori perché non fa una temperatura adeguata e tantomeno i fornellini, quelli per intenderci con il gas metano standard GPL da utilizzare nei campeggi non va bene neanche quello perché ha una fiamma molto ampia quindi la fiamma è divergente e invece nel nostro caso dobbiamo avere scaldare un punto ben definito e preciso se noi infatti andassimo a scaldare con una fiamma divergente tutta questa zona praticamente si piegherà in diversi punti quindi faremo un cattivo lavoro noi invece con una fiamma ben precisa come ad esempio questa adesso vi farò vedere vedete la fiamma è molto sottile e precisa andremo a scaldare solamente il punto in cui dobbiamo eseguire la curatura quindi in questo caso da qui a qui e con questa fiamma riusciremo tranquillamente a farlo queste sono le classiche bombolette le trovate anche in ferramenta questo è un mix di propano e gas butano molto tranquillamente costano 11 euro circa la bomboletta in questo caso è molto grande più la prima volta dovrete acquistare anche la parte superiore per poterlo utilizzare queste quindi sono gli strumenti assolutamente necessari da dover utilizzare per la piegatura di tubi di piccola dimensione adesso non vi farò vedere come si fa la piegatura del tubo vero e proprio perché è veramente banale chiaramente adesso qui non abbiamo le morse in alluminio come vi dicevo prima però si prende ipotizzando che dobbiamo piegare questo tubo si prende il tubo lo si stringe in morsa da questa parte ci si va con la parte in metallo la si posiziona nel punto esatto in cui si vuole eseguire la curvatura e possiamo anche segnarcela volendo con un punto a ruolo in qualcosa da poter mantenere il segno e poi si andrà a levare questa e si andrà a scaldare dopo aver scaldato per circa un minuto un minuto e mezzo per questo diametro di tubo si andrà a inserire il nostro tubo più grande pian pianino si inizierà a tirare e vedrete che perfettamente la piega avverrà proprio dove abbiamo inserito il tubo e dove stiamo scaldando quindi otterremo una piega perfetta esattamente come questa bene ragazzi io direi che anche per questo video è tutto è stato un video molto corto ma le informazioni e le nozioni sono poche è chiaramente necessario farlo caldo questo lavoro altrimenti il tubo si schiaccerà se ci sono delle domande o avete insomma altri consigli scrivetelo nei commenti ricordo di iscrivervi al canale tasto iscriviti sotto al video lasciate un bel like al video se vi è piaciuto da fare il tubo è tutto un saluto alla prossima ciao